Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovo video e in questo video siamo in Red Dead Redemption 2 Bene, questo gioco è molto bello per me Proverò qui E abbiamo bisogno di andare un po' avanti Comunque Si trova Il video Per iniziare per la storia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.